Ready? Zero e quindici, l'ha partito. Zero e trenta. 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 Il primo gioco dell'incontro, il primo gioco dell'incontro. 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 012. Il primo gioco dell'incontro. 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 15-0. Grazie. 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 30, 40, 30, 40. Grazie. 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 15-0. 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 Grazie, signor Presidente. 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 Signori, per cortesia seduti, il gioco riprende. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Presidente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Seconda. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zero quindici, la fine. 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 No! 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 Zero, 15, last week. Grazie a tutti. 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 Go! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 30. 15. 15. 15. 15. 40. 15. 40. 20. 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 Silenzio, grazie. 15-0, 15-0. Aplausos. 30-0, Garilai. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 40-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0, 15-0. 30-0, 15-0. 30-0, 15-0. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 Grazie. 15 pari, 59. 30, 15, 30, 15. 40, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 40, 15, 40, 15. 15, 40, 15, 40, 15. 30, 0. 30, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 30, 15, 40, 15. 30, 50, 40, 15. 30, 40, 40, 15. 30, 50, 40, 40, 40, 41. Grazie. 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 30, 40, 30. Me cortesía. Grazie. Grazie. Buenas tardes. 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 Ora passo attraverso la camera. 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 0,15. La pittina. 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 30 a giro. Per favore, signori. 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 0,15, la sostegno. 0,30, la sostegno. 15, 30, 15, 30. I can hear it as well, I don't know where it comes from. I don't know where it is. Could be police outside the studio. 30 pari. 30, signori, per cortesia, chi è che ha la violina e sente la partita, la tenga il più basso possibile o addirittura la spenga, non è il caso del tutto. Per cortesia. Grazie, grazie a te. 40, 30, 40. Grazie a te. Grazie a te. Vantaggio, la città. Grazie a te. 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 Grazie a te.